Ok, l'erba è stata tagliata, un bel lavoretto, un lavoro abbastanza impegnativo, c'è l'erba molto robusta dopo le abbondanti acque, dopo le abbondanti piogge c'è stata una veramente tanta erba. Anche questa parte, tranne la parte centrale che c'è ancora del peperoncino, il resto abbiamo anche pulito, anche nelle muraglie, ecco, tutto questo pezzo qua, vedete, è stato anche perfettamente disboscato, si potrebbe dire, da spine e cose varie. Anche il solco dell'acqua è rendasato di erba, di tanta roba, vedete, onde evitare che magari possa traboccare l'acqua, perché quest'acqua è un po' acida, quindi se va al lago, dentro la terra, diventa un problema, ecco. Anche i fichi d'india sono stati puliti, fino a giù, vedete. Adesso lasciamo qualche giorno e poi con la moto zappa prepariamo il terreno sia per piantare l'aglio, dall'altra parte metteremo l'aglio, qua metteremo le fave, i piselli, ecco. Anche qua c'era un bosco, si potrebbe dire, anche le muraglie. In questo caso il taglio erba è efficace, ma il lavoro è tanto, non si scherza per niente. Anche da qua, fino a giù, c'era un bosco, si potrebbe dire. Adesso si potrebbe dire che l'abbiamo fatta ritornare alla luce, come vedete. Un lavoro impegnativo, ma bisogna farlo ogni tanto, se no veramente diventa un bosco. Molta gente durante l'autunno non pulisce le terre. Non credo che sia una grande cosa, perché il lavoro che lasci poi lo trovo, insomma. Adesso sto a Gento, alla raccolta dei cachi. Mezz'oretta ancora di lavoro, poi si ritorna a casa. Questi sono cachi alla vaniglia, anche quelli là. Belli carichi, vedete. Adesso li raccogliamo, questi di minima, così poi li facciamo maturare a casa. E faremo poi delle confetture di cachi, mettendo anche qualche mela cotogno, ecco. Mettiamo anche qualche mela cotogno insieme. Per fare in modo di avere una certa quantità, prenderemo quelli di minima, poi li faremo maturare tutti insieme, poi faremo un'unica soluzione, penso a meno una ventina di vasetti, ecco. Anche la confettura di cachi è una cosa molto eccezionale. Come vedete i cachi sono abbastanza integri. Le mie eschie naturali riescono in qualche modo anche a controllare bene i cachi. Beh, ci sentiamo nelle prossime occasioni. Come vedete io la giornata la faccio sempre, tutti i giorni, quindi non è che c'è un giorno che mi fermo. E quando ogni tanto la domenica mi canto una canzone, sono pure abbastanza stancato, dico. Qualcuno la vorrebbe indonata, a 100% io accendo il computer e canto qualche canzone. Chiedete ai cantanti professionisti quando cantano dal vivo, che io spesso filmo, ho anche le cuffiette, vi posso assicurare che sto natura ne vedo tanti e tanti soldi si danno a quelle persone. Io ripeto a 100%, faccio una minima prova di voce e poi ci provo. Ma lungi da me a dire sto cantando per essere proprio indonato, perché già lo sforzo che faccio una vita è talmente tanto, che mi devo pure sforzare a cantare. Poi perché cosa alla fine? Anche io che andassi meglio di Pavarotti sarei sempre oscurato comunque. Scusate del mio intervento, io vi saluto alla prossima occasione.